Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone e vi do il benvenuto al nostro nuovo appuntamento settimanale. Il drink che andremo a vedere oggi è il GNZ Fashioned e andremo a prepararlo utilizzando la nostra agenziale. Il cocktail che andremo a preparare è la variante di un grandissimo classico che è l'All Fashioned. L'All Fashioned è composto da una zolletta di zucchero, delle gocce di soda, angostura bitter e barbono whisky. Il drink è un drink veramente buono e anche uno dei miei drink preferiti, l'unico problema è che a volte potrebbe risultare abbastanza dolce. Nella variante che abbiamo preparato noi abbiamo sostituito all'angostura bitter un orange bitter e in più abbiamo aggiunto la nostra agenziana che darà al drink delle note amare equilibrando un po' il gusto del cocktail finale. Andiamo adesso nella preparazione del nostro cocktail. Ovviamente per quanto riguarda il bicchiere andremo ad utilizzare un All Fashioned. Per prima cosa dobbiamo mettere all'interno del bicchiere una zolletta di zucchero. Quindi noi che cosa faremo? Andremo ad utilizzare uno strainer in questo modo e andremo a posizionare la nostra azolletta di zucchero sullo strainer. Una volta aver fatto questo andremo a terzare 3-4 dash di orange bitter sull'azzoletta di zucchero, in questo modo qui. Una volta aver terzato l'orange bitter manderemo la nostra azolletta di zucchero all'interno del bicchiere. Ok, da qui andremo a versare un goccio d'acqua che ci servirà principalmente per far sciogliere la nostra azolletta di zucchero. Quindi non servirà per forza la soda ma va bene anche un'acqua naturale. Ok, versata l'acqua andiamo a schiacciare l'azolletta di zucchero, andremo a mescolare per farla sciogliere un pochino, in questo modo. Ok, dopo aver sciolto un po' lo zucchero andremo a versare i nostri ingredienti. Quindi come abbiamo detto prima, il nostro cocktail è composto da barbolo whisky e la nostra agenziale. Quindi iniziamo versando i 50 ml di barbolo whisky. Ok, dopodiché andremo a versare 3-4 punti di ghiaccio e andremo a mescolare per circa 15-20 secondi, in questo modo. Quindi il cocktail lo andremo a preparare in due step. Allora, prima versata con del barbolo whisky, mescoliamo per 15-20 secondi, dopodiché andremo ad aggiungere 15 ml della nostra agenziale. Ok, andremo ad aggiungere poi altri due cubetti di ghiaccio e andremo a mescolare nuovamente per 15-20 secondi. In questo modo qui. Ok, dopo aver mescolato per bene, quindi per altri 15-20 secondi, andiamo ad aggiungere, andiamo a spremere gli oli essenziali dell'arancia sulla superficie del cocktail. In questo modo. E poi andremo ad aggiungere il nostro drink utilizzando una rondella di arancia essiccata. Il nostro GNZ Fashioned è pronto. Salute! Ok ragazzi, grazie per averci seguito, vi do l'appuntamento al nostro prossimo video. Vi ricordo di seguirci sui nostri social dove ogni sabato pomeriggio pubblicheremo un video della preparazione di un cocktail differente utilizzando i nostri prodotti. Quindi mi raccomando, seguiteci, se avete qualcosa da chiederci potete scrivere nei commenti tranquillamente. E in più mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Grazie ancora, ciao! Grazie a tutti!